Ha detto, sono l'unico compagno di sventura, no? E allora mi ha detto, devo andare, se sapevo tutta questa roba, ho voluto scomodare che provavo lì perché all'ultimo momento l'autista mi ha dato forfetto. È il lino! No, è da te! È il lino! Ah, perché è quello che vuole! Beh, ormai entra nel numero di più, anche lui, con l'arterio sclero. Allora, se stanno in due sull'autista, e sono io handicapato, devo tenere su che l'altro. E in che senso è handicapato? Amicapato! Ci sono tante la sintesi, anche se sei in verticale con te, no? Finito tutto! Parliamo difficile, ma chiaramente non è il momento, eh! Alvaro è mio! Io ti ho invitato, perché sei mio compagno! Nossi compagno! Nossi compagno! Il quattro, Emma! E poi? Hai invitato anche Roberto! Eh? Hai invitato anche Roberto! Beh, hai invitato anche Roberto! Ecco! Però hai fatto male perché hai perso la tua filosofia! Oggi, sei che come? Dall'amicci! Fausto! Saluto! Dall'amicci! Mi guarda un tiro! Che dai benissi! No, sei una mano, eh! Mi bravo! E la carona! Una sovra? E si che! E!